benvenuti a questa sessione qui club dedicata rapid fire tools io sono francesco sorzini membro del tech support team di acab e oggi parleremo di quello che può essere l'importanza delle checklist si le checklist sono importanti non solo nel contesto di rapid fire tools ma rapid fire tools ha qualcosina da dire a riguardo e non solo vi permette di eseguire delle scansioni adeguate e articolate di tutto quello che incorre all'interno delle infrastrutture dei nostri clienti ma ci sono anche dei bei tool dedicati al check listing che non fanno mai male allora partiamo subito da dove partiamo prima di tutto da network detective vado a fare un bel click sulla mia iconcina e lo richiamo dimenticavo se avete delle domande eh potete farmele in qualsiasi momento poi ovviamente cercherò di rispondere al termine della sessione ci sarà una sessione una piccola sessione questione e lì andrò a rispondere a tutte le vostre domande tutti i vostri dubbi perfetto network detective si è avviato e ora mi va a chiedere le mie credenziali a seguito di questa attività ovviamente network detective cercherà anche di comprendere se può o meno aggiornarsi con database più recente presente sul portale di rapid fire tools sulla sua sezione di aggiornamento bene siamo arrivati qui e abbiamo un portale completamente vuoto va bene così è perfetto perché perché andremo ovviamente a eseguire la prima cosa che si esegue quando si ha da eseguire un'analisi di un nuovo cliente un clic su uno site pulsante no site qua in alto a sinistra andiamo a stabilire il nome del cliente lo chiamiamo con molta fantasia qui club checklist ok a seguito di questa attività di creazione possiamo fare un clic sul pulsante start la prima cosa che ci viene chiesto ovviamente di andare a flegare diciamo la l'attività l'assessment type associato ai tipi di moduli che effettivamente abbiamo e che vogliamo utilizzare per quello specifico cliente vado a prendere in considerazione i più comuni network assessment per dominio security assessment per domain e poi i meno comuni exchange assessment e sql server assessment sono tutti i moduli separati solitamente ci si ritrova ad avere a che fare con network assessment e security assessment o di dominio o di work group va bene ugualmente non selezionate di ovviamente tutti cosa intendo network assessment security assessment associati al contesto dominio in realtà contengono al loro interno un check aggiunto associabile al work group non andate a introdurre anche gli altri due perché altrimenti vi ritrovereste con il doppio del lavoro da fare inutilmente perché il doppio del lavoro da fare perché le checklist aumenterebbero e si si parla proprio di checklist qui no e facciamo un clic su next è una cosa che succede spesso quando ho a che fare con delle assistenze riguardanti e cioè non arrivano dei report adeguatamente adeguatamente pieni perché non arrivano proprio perché la checklist non viene pienamente rispettata ed è un guaio label ovviamente assessment del giorno diamogli anche nomenclatura aggiunta 01 assessment iniziale ed eccoci qua qua già abbiamo un qualche cosa che ci può essere utile e il più delle volte questa sezione finisce con un clic su finish no bisogna cliccare su questo hyperlink show checklist sì perché già qui abbiamo tutte le indicazioni del caso che ci possono aiutare a comprendere come agire sugli strumenti di ricerca informazioni quali network detective data collector e gli altri in una maniera piuttosto mirata e procedurizzata questa checklist è decisamente comoda per capire che cosa dovremmo seguire sui vari sistemi per ottenere tutte le informazioni che ci occorrono seguiamo i punti uno per uno per dissecuamente rispettando potenzialmente come prioritari tutti i require che sono evidenziati in rosso la prima azione da eseguire come vedete il run network detective data collector ndc con l'opzione network scan attiva poi abbiamo un run computer data collector on computers that cannot be scanned remotely che è optional beh sì si possono utilizzare vari strumenti no non andiamo avanti con la lista prima di andare avanti con la lista abbassiamo andiamo a vedere dove si possono ripari riparire tutti quegli strumenti in questo caso qua una volta che abbiamo aperto la checklist possiamo fare anche clic su finish qua andrà a crearsi il suo telaio dedicato a qui club checklist al nostro nuovo cliente e noi intanto apriamo il browser web eccoci qua io mi sono già creato un collegamento qui per comodità ma semplicemente passando su www.rapidfiretools.com slash n di napoli di domodossola atterreremo all'interno della sezione di download di rapid fire tools sezione dovreste già conoscere in quanto il network detective si scarica esattamente da qui come vedete ci sono state nel corso del tempo delle suddivisioni per quelli che tra di voi utilizzano rapid fire tools già da un po di tempo sapranno che in precedenza tutto era piuttosto elencato in una modalità similare a quella presente in sezione only ma qua ci sono tutte le varie sezioni suddivise per tipologie di moduli nostro caso abbiamo attivato sulla checklist network security exchange ed sql server gli strumenti che dobbiamo scaricare dobbiamo utilizzare in base alla guida presente in checklist sono tutti presenti in queste sezioni il primo tool che sicuramente va lanciato quindi e network security data collector clic su download e si ottiene quindi il tool necessario a eseguire la prima scansione completa associata a determinate tematiche io l'ho già ovviamente scaricato la stessa cosa l'ho fatta anche per exchange data collector sql server data collector non vado ad approfondire l'uso del push deploy tool ma considerate che è un tool da lanciare in modalità secondaria qualora alcune delle macchine rilevate non rilevate dalla scansione di network detective data collector diciamo moduli network security ecco queste macchine non sono rintracciabili in quel particolare momento durante la prima scansione avete comunque una lista degli indirizzi p da scansionare ok per quelle macchine non raggiungibili potete magari farlo in un futuro e push deploy tool servirà proprio a quello scopo mettiamo il caso un portatile non è acceso perché la persona che deve andare a utilizzare il portatile non è in azienda ecco in un secondo tempo potrete utilizzare il push deploy tool in maniera centralizzata così come fareste con network security data collector per ottenere tutte le informazioni anche di quegli strumenti informazioni che poi potrete andare a introdurre all'interno di quello che è il network security data collector extraction poi a seguire exchange assessment quindi ho già scaricato il pacchetto fatelo eventualmente anche voi sql server assessment ho già scaricato il pacchetto fatelo anche voi abbassiamo il tutto lanciamo network detective data collector questi strumenti possono essere lanciati anzi meglio lanciarli in modalità amministrativa tendenzialmente è meglio lanciarli all'interno di un server che è in grado poi in ogni caso di raggiungere anche tutti gli altri strumenti server o client che siano presenti all'interno dell'infrastruttura di rete dei vostri clienti non è best practice ma è consiglio spassionato di norma un domain controller ha tutte le porte necessarie aperte quindi nel caso lanciatelo insieme al membro dell'IT di partner che vi seguirà nella nelle attività all'interno di un domain controller ripeto non è best practice è semplicemente uso comune per praticità nostra non best practice ma praticità nostra vado a introdurre il mio nome utente relativa password scusatemi eccomi qua la password è corretta e mi chiede ovviamente lo strumento di andarlo a buttare all'interno di una folder a mia scelta o meglio lui mi già mi propone c windows 10 ma posso potenzialmente anche metterlo sul desktop non mi interessa faccio un zip e al termine dell'attività mi parte il run network detective punto es che cosa richiede la checklist andate a vedere cosa richiede la checklist la checklist richiede varie attività richiede sicuramente di eseguire il network detective data collector con l'opzione network scan attiva network data collector è attiva poi andrà a chiedere di eseguire una scansione locale è opzionale ma voi introducite l'ugualmente in questo caso avviene il check soltanto su questa specifica macchina no poi initiate external vulnerability scan è una richiesta ed è opzionale l'andiamo a vedere in un secondo tempo perché non impatta il contesto network detective data collector passiamo a ndc nuovamente run network detective data collector with the security data collector network scan option quindi anche security data collector con network scan primo passaggio tutti i flag attivi next andrete a configurare tutti i parametri quali appunto i i vostri dati associati ai dati directory impostazione dominio facciamo una carrellata in questo momento non sono collegato in mia rete di dominio quindi c'è poco da fare mi fallirà spudoratamente il tutto ma pazienza noi andremo avanti ugualmente ha ragione anche lui per andare avanti da questo impasse semplicemente andrò a selezionare work group andrete avanti con l'active directory domain se c'è il work group no domain pazienza verrà semplicemente presentato di fronte a voi un tool di inserimento una forma di inserimento di utenze password relative al work group questa schermata comparirà ugualmente anche se avrete introdotto le vostre cadenziali di dominio quindi cambierà ben poco qui ci mettiamo un admin e una password inesistente le utenze potrebbero essere anche ben altre cioè quindi non solo quella di dominio è una singola di work group potrebbero essere molte di work group next external domain qua possiamo eseguire una scansione per determinati domini per capire se questi domini sono stati in qualche modo compromessi c'è un bel lad a potete fare ovviamente anche degli import da dei file di testo qua ho una serie di indirizzi p che ipoteticamente questa macchina può raggiungere posso aggiungere anche le altre subnet perché questa macchina potrebbe traversare il firewall senza problemi posso decidere di eseguire o meno una scansione accurata del della scusatemi della rete a una velocità bassa o una velocità alta dipende da che cosa avete se avete dei dieci cento imponete questo flag altrimenti no diciamo di continuare introduzione di snmp introduzione di credenziali relative a un guard check eh di sicurezza per la possibilità che le macchine possono dire eh avere di raggiungere o meno determinati portali potete anche personalizzarli e non basarvi solo su quello che è il database del sistema network detective e poi un check anche per le personali identifiable information se vi occorrono non occorrono normalmente per network security o per sql e per per exchange serve solitamente per altre tipologie di moduli facciamo un click su next e poi possiamo dire al sistema di eseguire un prescan per capire quali macchine possono o meno essere raggiunte eh dal diciamo dall'analisi eh e quelle che non vengono raggiunte potete raccoglierle e metterle da parte in una lista per poi poter lanciare quel tool che vi menzionavo prima che è il push deploy tool se qualcosa dovesse ovviamente andare male e tutte le macchine non sono raggiungibili o eseguite una scansione locale utilizzando questi altri tool magari oppure il push deploy tool lo fate partire nella centralizzata dal solito domain controller eseguite un check completo da lì ora ci interessa eseguire uno start no impiegherei troppo tempo ed è comunque completamente out of topic ho preferito farvi vedere comunque tutto quello che è netto dei tetti data collector ma è soltanto un qualcosa in più eh del contesto checklist eh una nota ultima oltre al prescan che vi dà le informazioni su quello che poi effettivamente andrà eh a recuperare a livello di informazioni il sistema c'è anche un bel save settings to file che può fare al caso vostro se non volete riconfigurare tutto network detective eh così come ho appena fatto per uno specifico cliente potete salvarvi queste configurazioni e tenerle pronte per un audit successivo sì perché potete fare anche molti odi su singolo cliente e perché no confrontarli anche tra di loro esiste eh una modalità di reportistica adibita al change management quindi non non è scusate change reporting non è assolutamente male annulliamo e facciamo semplicemente clic sulla x lo chiudiamo perché perché io sono già andato a scaricare in realtà dei sample report data facciamo la stessa cosa tanto per gradire per quei due moduli aggiunti quindi lanciamo anche uno degli altri due tool per i moduli aggiunti e lanciamo magari SQL server data colletto anche questo lo eseguiamo come amministratore vediamo che cosa devo anche azzeccare la password capita quando la si cambia il giorno prima di una quick lab allora andiamo a fare un bel unzip anche qui buttiamo in c windows tempo e facciamo in modo che appunto parta il run SQL vedete qualcosina è cambiato server porta di riferimento tipologia di autenticazione verify run e ovviamente verranno estrapolate tutte le informazioni necessarie e al termine dell'attività potrò ovviamente andare a prendere il risultato della scansione e inserirlo all'interno del mio network detective torniamo alla checklist quindi ipotizziamo di aver lanciato run network detective data colletto and ddc with network scan abbiamo eseguito la scansione locale su una macchina ma dovremmo farla anche su un'altra macchina almeno un'altra macchina dovremmo eseguire l'external vulnerability scan dovremmo lanciare il network detective data collector con la security data collector network scan option attiva l'abbiamo fatto quindi uno dei flag li presenti ci permetteva questa cosa run network detective data collector with the security data collector without the network scan option questa va ripetuta andiamo a vedere quali sono quindi questa funzione e quindi rilanciamo network data network detective data collector sempre come amministratore come prima run network detective unzip qual è l'opzione del mistero beh non è assolutamente misteriosa togliamo di torno network data collector solo security data collector senza network scan next e siamo a posto il risultato anche questo risultato lo andremo a integrare all'interno della lista delle richieste diciamo della del nostro network detective allora per eseguire una local computer data collector potete utilizzare il comune network data collector senza network senza security solo local altrimenti scaricare dal portale il tool network detective computer data collector qua non ci sarà nessuna selezione particolare da fare a seguito dell'attività lanciata partirà direttamente un file bat che tendenzialmente vi andrà a riportare all'interno della cartella dell'eseguibile il file di scansione eseguito su quella macchina in locale la stessa cosa è valida anche per mac os e per i sistemi linux più elementi riuscite estrapolare e ovviamente meglio sarà vado a chiudere netto detetti data collector e ritorno alla check list la check list mi parla anche di una initiate external vulnerability scan che è opzionale dove si fa questa operazione questa operazione non necessita di alcun tool se non network detective stesso initiate external scan richiama lo strumento di check external scan breve si aprirà una finestrella e lì andrò a introdurre indirizzi pd portale che la nostra scelta tanto per dire andiamo a fare un bel cmd bel ping punto libero punto it e vediamo quale è uno degli indirizzi p che magari potrei andare a introdurre qui dentro per eseguirne un check supporta parecchi indirizzi p in una volta sola fino a 64 potete addirittura salvare queste configurazioni per il vostro cliente qui club checklist durante le successive attività di di analisi palese potrete ottenere nuovamente questa lista senza stare tutte le volte a reintrodurre numeri ricordatevi che c'è comunque l'opzione import export che è comodissima clic su next e abbiamo fatto abbiamo richiesto che un server esterno che è sotto maintenance di rapid fire tools esegua questa questa questo tentativo di check un external scan per capire se delle porte classiche sono aperte che vulnerabilità eventuali sono presenti l'external scan si andrà poi a caricare automaticamente al termine delle delle attività quando lancerete il report in questa lista scan ora dato che va eseguita un'altra operazione attendiamo che la pagina ci dia la possibilità di fare un clic su import scan file e andiamo a introdurre tutti i template diciamo demo che ho scaricato già in precedenza vedete che qua ho un import scan file un bel pulsante da cliccare vedete che qua è già caricata una voce externa vulnerabilità scan poi in alto oltre che una checklist che se vado a richiamare si sarà aggiornata occhio eh refresh checklist pulsante refresh checklist il sistema va a cercare all'interno del database quali sono del database associato a questo cliente quali sono le attività che io ho già svolto in termini del refresh un clic su printed checklist mi porterà ad ottenere nuovamente un documento in formato docx che contiene flaggate le attività che ho già svolto quindi per avere una checklist aggiornata non occorre andare a mettere fisicamente dei flag ma basta importare le scansioni o attivare determinate attività l'externa l'ho già avviata quindi è già stata applicata lo chiudiamo chiudiamo anche il vecchio documento import scan file come vi dicevo ho già il mio pacchettone scaricato dall'help che contiene tutte le scansioni di demo vi faccio vedere da dove si si vanno a scaricare e le ho piazzate esattamente qua dentro sample report data qua ho un po' di scansioni separate che possono fare il caso nostro browse andiamo sul mio desktop sample report data file zip possono essere importate anche più cose in una volta sola anche più file compressi più scansioni distinte finish e il mio network detective andrà a aggiornare la lista delle attività che io ho già svolto diamogli tempo non serve richiamare la voce refresh checklist in quanto lo fa già lui al termine dell'attività eccoci qua come vedete in sezione scansa adesso ci sono più informazioni più scansioni che sono state introdotte mi basta fare un click su printed checklist per ottenere nuovamente il file docx aggiornato ma già da qua in alto in sezione assessment quick lab checklist assessment vedete che le required sono già andate tutte a scomparire sette completate e zero richieste certo vi ricordo che io ho importato un qualche cosa di già pronto si ipotizza che voi abbiate fatto tutti i giri utilizzando i vari strumenti descritti all'interno della checklist dove ho scaricato quei template demo qua in sezione download sample report data di help network security as well server exchange sample data possono esservi magari utili per mostrare ai vostri clienti quindi è quello che potenzialmente lo strumento può fare io ho già dei reports ready quindi se faccio un click su questi con cina posso andarmeli già a generare la checklist è completa no non è non è completa andiamo a vedere che cosa manca perché c'è ancora un optional eccolo qua run computer data collector on computers that cannot be scanned remotely optional semplicemente lanciate il data collector su più computer possibili in modalità locale qualora ovviamente voi non abbiate già questo elemento flegato così come ho fatto vedere prima a cosa serve tendenzialmente delle macchine isolate non hanno neppure una connettività di rete attiva vi basta introdurre dentro una bella chiavetta usb il tool di scansione locale spostarvi sulla macchina disconnessa e eseguire le attività di assessment né più né meno i report sono già pronti un click quindi su report ready e sono in sezione preposta vi rendo partecipi del fatto che la sezione preposta comunque è richiamabile anche da qui posso tornare in assessment semplicemente cliccando su assessment questi sono tutti i report che io ho pronti suddivisi per tipologia di modulo ho fatto una ricerca per network ho fatto una ricerca per security per exchange SQL server ecco posso andarli ad attivare tutti o soltanto quelli che effettivamente mi occorrono ci sono solo questi? no, potenzialmente ce ne sono altri che come vi dicevo vanno a impattare il contesto di change mettite il caso di aver archiviato un assessment precedente come si archivia un assessment precedente semplicemente attraverso un click su finish project potete fare in modo di andare a selezionare quel previous project e far partire un nuovo assessment ora non ne ho perché ho creato un cliente completamente nuovo un nuovo assessment che mi vada a portare in pancia a seguito delle scansioni ulteriori eseguite anche i cambiamenti che si sono incorsi nel delta di tempo ok andiamo soltanto sugli attivi e possiamo fare un click per generarli non li andrò a generare perché esula da questo contesto ma la checklist è solo quella che vi ho fatto vedere? no ragazzi non è solo quella torniamo in assessment chiudiamo un attimo la sezione scans e vediamo che c'è anche la sezione informa le informa cosa sono? sono delle interviste che possono essere eseguite al cliente oppure a noi stessi perché no? anche a noi stessi qui dentro possiamo introdurci delle checklist utili ai nostri scopi queste checklist possono essere veramente delle interviste da fare a determinati operatori sulla community informa se facciamo una ricerca ci sono già dei template pronti però generare un qualche cosa di facilmente utilizzabile in un nostro contesto adesso vado a prendere l'MSP Client Onboarding Process e lo faccio mio e lo carico ce l'ho qua in lista templates ecco questa qui questa checklist inform test su network l'ho creata io poco fa poco prima di iniziare la sessione come new template e mi ritrovo in questa situazione posso definire il nome della checklist o meglio dell'intervista però in questo caso è una checklist istruzioni e legarle a uno dei tanti moduli in modo tale che il report che poi genererò per questo strumento vada a finire direttamente nell'elenco del tipo di modulo che ho acquistato poi sezione 1 posso crearne altre? sì posso creare anche sezione 2 magari posto di sezione 1 e sezione 2 potrò mettere i nomi degli operatori che già conosco sezione 1 posso introdurre delle domande di che tipologia the topic checklist item è il predefinito guarda caso checked o unchecked sono degli standard quindi ossia la checklist che eventualmente la possibilità di introdurre anche delle ulteriori domande di follow up tipo sì l'elettrovalvola funziona bene se funziona hai controllato che il manometro x, y, z abbia effettivamente il valore tal dei tali sì, no e via discorrendo non vado ovviamente a compilare altro se non l'elettrovalvola funziona il giroscopio gira vi faccio vedere che cosa succede quando vado fuori dalla sezione informo e ritorno sulla home ritorno nel cliente e vado a caricare quell'informo se intanto avete delle domande iniziate già a inserirle in lista sperando che network detective non si sia bloccato nel caso non rilanciamo non si sia bloccato inform add form io ce li ho già pronti no vado a selezionare dalla mia lista in questo caso vado a prendermi il checklist inform test su network prepared for cliente x, y, z e ok alla checklist posso rispondere direttamente qua avendo la persona incaricata davanti e richiedendo alla persona se effettivamente la valvola è funzionante o meno o se il giroscopio gira posso addirittura introdurre delle note il nome di un referente e se proprio occorre posso anche introdurre degli attachments se c'è una mettiamo una standard operating procedure da rispettare si può allegare anche una procedura di quella tipologia bene io non ho altro da inserire ho rispettato la mia checklist ma qua devo avere per forza di cose network detective tra le mani per intervistare la persona ma se c'è un'intervista che magari equivale a una lista di check da eseguire e magari questa lista è di 100 unità magari la cosa ideale da farsi sarà quella di creare una response form in formato docx e consegnarla alla persona che deve essere intervistata una volta che mi verrà resa quella lista potrò utilizzarla un comune file word un docx attraverso l'import word response form ecco la importerò nel sistema e avrò già tutte le risposte compilate faccio un click su save l'informe è stato salvato ce l'ho a portata di mano come richiamo il suo report ritorno su reports ready se network detective mi assiste ovviamente ok sta finendo di prendersi in pancia sul database quei due elementi che ho integrato e come vedete qua in sezione network mi è comparsa anche un inform reports la seleziono faccio un create report e otterrò quello che ho introdotto in quella intervista checklist all'interno di un documento ovviamente devo andare a riempire il campo report prepare for con dei dati sensati tipo il nome del cliente referente qui si aprirà breve una finestrella dove potrò andare a introdurre quelle informazioni cliente xyz e ok termine di processo di creazione mi ritroverò tutte le informazioni necessarie all'interno di una cartellina della mia macchina mi si aprirà direttamente explorer excel con sezione network ben in vista checklist inform formato docx doppio click vediamo nei contenuti sezione 1 troviamo la funzione gisoscopio gira si checked marco rossi era il referente note aggiuntive test test comodo sì comodo spero di avervi dato delle dritte utili per poter migliorare anche il vostro rapporto diretto con il cliente quindi che cosa faccio e quando ho bisogno di ho delle informazioni utili tanto per gradire vi faccio vedere che cosa contiene quel inform template che ho caricato prima l'msp client onboarding process questo è in inglese vedete già bello che poi è compilato e vi chiede di compilare questa intervista che di fatto è una checklist vera e propria con tutte le informazioni utili e necessarie per comprendere che diamine sta succedendo all'interno dell'infrastruttura del cliente ancora prima di lanciare delle sonde è un'intervista che vi permette di reperire anche delle informazioni che le sonde di network detective non sono in grado di reperire ipotizzate un'intervista da svolgersi a un dipartimento risorse umane direi che è tutto e passo alla sezione question and answer quindi scrivetemi pure in tranquillità vedo che non è ancora arrivata alcuna domanda nel caso necessitaste anche di risposte a vostre domande in un secondo tempo quindi non ve ne vengono in mente adesso scrivetemi in tranquillità supporto chiocciola akab.it se per voi è tutto bene potete in tranquillità scrivermi in sezione domande che è tutto a posto che non avete particolari dubbi a riguardo allora Paolo mi chiede se esistono delle checklist già in italiano no ti confermo che delle checklist in italiano non esistono intendi come checklist credo delle inform sono facilmente traducibili però come vedi basta aprirle andare a cambiare tutte le varie informazioni ivi presenti e personalizzarle addirittura nel delta di tempo grazie Maura grazie Paolo grazie vedo che c'è tra di voi anche Matteo e pertanto vado io a fargli una domanda Matteo stai utilizzando gli inform con i tuoi clienti grazie Emanuele vediamo se Matteo mi risponde una sua risposta potrebbe essere molto interessante anche per tutti voi perché lui è un vecchio utilizzatore dello strumento e quindi credo che il suo feedback potrebbe dare a tutti una marcia in più se non mi risponde pazienza ok Matteo non risponde non vedo arrivare altre domande altre conferme grazie Giacomo per la conferma Maura mi dice che è interessante il discorso dei change ah ecco questa cosa ve la voglio far vedere anche se ripeto esuro un po' dal discorso change e scusatemi dal discorso checklist ritorno un attimo in quella che è la home e rientro sul cliente quindi potete aver finito il nostro processo di analisi il primo processo di analisi allora dobbiamo chiudere questo assessment come si chiude? semplicemente con un finish quando si fa un click su finish non è che viene buttato via il tutto viene archiviato è richiamabile in qualsiasi momento passa semplicemente in archived project folders che è questa qua ok potete avere una gran lista qua in active project ovviamente non abbiamo nulla click su start possiamo ripetere l'assessment originario ovviamente in una data differente assessment chiamiamo 02 finale next anche qui ho una checklist da rispettare attenzione finish e qua mi ritrovo con qualche cosa di vergine da implementare ecco come si fa a ottenere dei change report semplicemente selezionando come previous project l'ultimo che avete eseguito qua comparirà il riferimento all'altro assessment quando andrete poi al termine ovviamente delle attività di assessment nuove a generare dei report vedrete che il sistema cercherà di fare addirittura un confronto tra le due attività svolte nei tempi differenti potrete così mai rimostrare ai clienti che cosa avete svolto nel delta di tempo tra un'attività di assessment e l'altra perché l'assessment iniziale magari vi dà anche accesso ai report di tipologia risk che potrete mostrare al vostro cliente e attraverso i quali potrete andare a mettere giù un piano d'azione per migliorare la situazione nel delta di tempo a proposito di delta di tempo Matteo mi ha risposto e mi dice che le checklist lui le usa a seconda del tipo di assessment che va a fare e ha pienamente ragione una nota le checklist esistono sempre all'interno di rapid fire tools sì ci sono ma servono sempre no non servono sempre potreste magari anche solo eseguire un external vulnerability scan allora serve utilizzare questa sezione no utilizzate semplicemente un other non ci sono checklist ma poco importa voi saprete già magari che cosa dovrete andare a utilizzare per ottenere una tipologia di assessment non vi interesserà la checklist vi darà dei danni non ve li darà pazienza come vedete non si carica neanche in alto la sezione che vi dice che cosa ancora vi manca da eseguire potreste veramente usare anche solo external scan ok e dargli poi solo quello specifico report al cliente finale ok credo di aver terminato ripeto se necessitate di ulteriori chiarimenti o anche soltanto per scambiare un paio di informazioni con me riguardo alcune attività che sono in dubbio lato vostro in merito agli informo alle checklist integrate scrivetemi a supporto chiocciolaca punto it cercherò ovviamente di rispondervi offline grazie a tutti per l'attenzione vi auguro un buon fine settimana e alla prossima ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti